Questa è una partita diversa da quella che ho fatto in passato. Sentiamo tutti l'attesa che c'è, l'entusiasmo che si è creato e siamo felici di questo perché siamo stati bravi a meritarci una partita con una cornice di pubblico sicuramente di categoria diversa. Però come abbiamo ripetuto sempre in tutte le giornate, lo faremo anche oggi perché è così e noi lo sappiamo e mi auguro che lo sappiano tutti, sarà sicuramente una partita di un campionato difficilissima contro un avversario complicato e che fuori casa ha dato dei grandi grattacapi a tantissimi avversari. Noi lo sappiamo e ci stiamo preparando per provare a fare quello che sappiamo fare cercando di saper soffrire quando ci sarà da soffrire e saper attaccare quando sarà il momento di farlo. Passati tanti anni, quindi quelle sensazioni sono rimaste dentro ma in questo momento non sono le stesse. Noi siamo contenti di questa atmosfera che c'è, però vogliamo affrontarlo con serenità ma non con tranquillità perché la tranquillità ti fa abbassare la concentrazione. Invece noi vogliamo avere le antenne dritte, sappiamo di incontrare un avversario di tutto rispetto e sappiamo anche che questo avversario viene per provare a fare una grandissima partita e ha tutti i mezzi per poterlo fare, come noi ne abbiamo tutti per poter ribattere e fare una grande prestazione come abbiamo voglia di fare. Sono una squadra che viene da un percorso importantissimo nella categoria inferiore, hanno condiviso dei bei successi l'anno scorso con un bel percorso con lo stesso allenatore. Sono ripartiti in un campionato diverso, con qualche difficoltà, ma si sono subito ambientati e sono stati in grado e lo saranno ancora, soprattutto fuori casa hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà avversari di livello. Noi siamo pronti ad affrontare un avversario di questa qualità e sappiamo che ci sarà da soffrire come c'è da soffrire in tutte le partite e proveremo poi nel tempo a provare a fare quello che sappiamo fare, sperando di riuscirci. Credo che siano in grado di mettere in campo una formazione di livello alto, lo sanno loro perché lo hanno anche dichiarato e lo sappiamo noi perché conosciamo tutti gli interpreti che scenderanno in campo. Un altro tranello di una partita difficilissima, ma che abbiamo provato a preparare come tutte le altre, sapendo le insidie che possono portare, come ci stanno dimostrando tante gare di questo campionato, conoscendo le insidie che ci saranno. Abbiamo voglia di fare una partita di livello perché ci siamo meritati un'occasione bella e con grandissima umiltà e con i piedi per terra abbiamo voglia di provare a sfruttarle. Siamo stati bravi a fare un risultato, ma siamo anche consapevoli del fatto che l'avremmo potuto fare in altre circostanze dove siamo stati anche migliori di quelli che siamo stati a Novara. Quindi non ci deve cambiare il modo di pensare un risultato positivo rispetto a un risultato negativo. Sicuramente i risultati positivi servono per poter crescere con un pizzico di serenità in più, ripeto, serenità e non tranquillità. Però sappiamo benissimo che dobbiamo rimanere ancorati per terra perché il campionato è lungo, il campionato è difficile e ogni partita, come stiamo vedendo, di giornata in giornata riserva delle insidie grandissime. Noi non vogliamo farci cogliere di sorpresa perché sarebbe un peccato farsi cogliere di sorpresa.